Il venerdì sera è un'illusione. Ce l'hai fatta, pensi, mentre chiudi l'ultimo bottone della camicia ed esci di casa. Che sia il lavoro o l'università è finita. Almeno per 48 ore. Il tempo della fatica è terminato. Inizia quello dell'ozio. Comincia un altro fine settimana. Non si sa bene perché, ma si è sempre convinti che sarà meglio di quello passato. Invece il venerdì sera è solo un'illusione. Un'illusione che svanisce la domenica pomeriggio, quando un'altra settimana sarà finita, sulla terra. Senza aver portato grosse novità. Giada, innanzitutto complimenti. Noi di Click Movie abbiamo visto in anteprima il film che ti vede protagonista su Marte non c'è il mare e che uscirà nelle prossime settimane e sei stata bravissima. Vuoi raccontarci com'è stato lavorare con il maestro? Per te che sei così giovane all'esordio deve essere un privilegio essere stata scelta per un ruolo di questo tipo. Cosa ne pensi? Grazie per i complimenti e buon pomeriggio a tutti. Che dire, sono molto emozionata. Il film, dopo le prime proiezioni riservate alla stampa, uscirà in tutta Italia. Tesa? Sì, mi sembra di vivere un sogno. Tutto è iniziato quando il maestro Bernati mi ha scelta e per la parte pensavo fosse importante... Quando il maestro Bernati mi ha scelta per la parte pensavo fosse molto importante prenderlo nel culo. Sì, mi sembra di vivere un sogno. Sì, mi sembra di vivere un sogno. Sì, mi sembra di vivere un sogno. Marco, Marco! Ciao, Ferro, come stai? Io bene, cazzo, tu? Sapevo che eri a New York. Ho incontrato Ivan qualche tempo fa e mi ha detto che stavi andando forte, eh? Sì, in realtà sono tornato già da un anno, era solo il master. Ah. Diciamo che una volta finito l'accademia ci ha un po' abbandonato. E così il nostro Marco è tornato a casa, eh? Perché se gli americani non ti capiscono noi ce ne fottiamo. E vorrà dire che spaccherai tutto qui. Eh, speriamo. Ma stai girando uno dei tuoi soliti filmini? No, 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 devo fare qualche foto e un video promozionale a questa pizzeria. L'hanno appena aperta. Ah, li conosco loro. E pensa che la figlia del proprietario me la bombava un po' di tempo fa. E tu cosa combini? Lavori? Ma... Beh, io sono un po' come te, Marcolino. La gente non mi capisce. Dice che non ho voglia di fare niente e... Forse adesso vado giù in meridione dai cugini che dovrebbero trovarmi lavoro. Mi ha fatto piacere vederti Ferro scappalavorare. Marcolino, tu sei un artista. Non puoi partire tempo a fare delle foto delle pizze. Ci proviamo qualcosa una di queste serie, eh? Ti scrivo in chat. Va bene. Saluta Kivan! Ok, in effetti non so come sia successo. È stato tutto molto veloce. Mi sono diplomato, ho scelto un corso di laurea, ho cambiato due città, sono stato con una ragazza che amavo e che non è più con me da tempo. Ho dato tanti esami, fatto viaggi in posti lontani, conosciuto gente inutile. Ho bevuto e mi sono ubriacato. Ho litigato, mi sono laureato, specializzato. E ora sono qui. A riprendere il fumo che esce da una quattro stagioni. Sapete chi ho incontrato stamattina? Ferro. Wow. Cazzo Ferro. Che uomo di merda. Ogni tanto lo incontro anch'io. Oh, quello non ha mai combinato nulla nella sua vita. È brutto come la fa. Non ha un soldo. Eppure ogni volta riesce a farsene tutte. Ivan, sei serio? Ma tutte chi? Io l'ho visto sempre in giro da solo o al massimo con dei comodini. Hai finito questo cellulare? Beh, per esempio Gloria se l'è fatta, lo so per certo. Vabbè, per l'appunto, un comodino. Giulio, ma la tua metà dov'è? Ci stavamo scrivendo ora. Rimane a casa. È stanca. Come se io non mi fossi fatto il culo nove euro al giorno per tutta la settimana. Con quel rompi i coglioni di mio padre. Ragazzi, guardate chi è entrato. Idolo! Ti prego, non farlo venire qui. Jack! Ciao Jack, ti convini? Cazzo, grande Jack. Hai visto il video che ho messo su Facebook? Il gol di Cantona al Liverpool, lo conosco a memoria. Cos'era? Una finale di Coppa dei Campioni? Nah, è fake up. Ragazzi, facciamo sta domanda così poi se ne va. Dai Giulio, non fare l'odioso. Comunque, vediamo chi c'era titolare in porta nel Torino stagione 1967-68. Lidovieri. Cazzo, Jack. Ma una memoria infallibile, ho ogni volta. Altri, come fate ad esserne certi? Prima controlliamo. Ma controlla quel che vuoi. Tanto lo so che Jack è sempre sul pezzo. Oh, tieniti due euro, va? Vatti a fare uno shot. Grazie, ragazzi. Ciao, buona serata. Impressionante, cazzo, impressionante. Senti un po', Iva, ma alla fine quel tuo cliente riesce a imbucarci al festone? No, perché un altro weekend del genere mi viene in voglia di tumolarmi in casa. Io, ai genitori dell'Eusepia, ho venduto un cottage in montagna e un attico in centro. Vuoi che non riesca a farmi imbucare al suo compleanno? Eh? E poi sono carico anch'io, cosa credo? Sono sei mesi che non consumo. L'ultima era stata... Ileana, la cassiera del supermarket. Eh, vabbè, era tanto per parlare di qualcosa. Guarda questo. È ancora attaccato al telefono. Ma davvero? Ma chi stai scrivendo adesso? Stavo controllando chi c'era in porta nel Granata, nel campionato 67-68. No, ma tu non ce l'hai più. Cos'è? Se hai sbagliato vai la Jack e ti fai restituire i miei due euro. Il fatto è che c'era lì dove ieri. Ma come cazzo fa? Andiamo a bere ancora qualcosa? Io vado a salutare Maria. Fuori il caso che domani passo dallo studio. Sta canonista. No, è che fra tre mesi ho quel cazzo di esame di Stato. Continuo a sognare. Ciao ragazzi. No. Tu invece cosa vuoi fare? Un pre-supremo degli agenti immobiliari? Hai solo. Mi sono svegliato le dieci e la cosa più fatica che ho fatto è stata montare e smontare il cavalletto. E allora ci penso io come far svoltare la serata. E allora ci penso io come far svoltare la serata. Può diventare insopportabile la voce metallica delle compagnie telefoniche che ti dicono l'utente non è al momento raggiungibile. Di riprovare più tardi. Che poi quel più tardi è indefinito e non passa mai. Soprattutto di notte. Il cliente per il chiamato non è al momento raggiungibile. Il cliente per il chiamato non è al momento raggiungibile. Il cliente per il chiamato non è al momento raggiungibile. Cazzo, cazzo, cazzo. Pronto? Ciao Marco, ho trovato una tua chiamata alle 3.20 del mattino. Tutto bene? Che volevi? Una chiamata mia? Ah, sì, 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 no, perché ho visto la tua intervista su internet, quella del film di Bernati. Come si chiama? Su Marte non c'è il mare. E niente, volevo farti complimenti. E mi chiami nel cuore della notte per dirmelo. Cosa è, avevi bevuto? No, ma va, figurati, è che era venerdì sera, pensavo si sveglia. Vabbè, guarda, non dico niente. Grazie del pensiero in ogni caso e buona giornata. Ah, grazie, prego. Buona giornata anche a te. Che figura di merda, che figura di merda! Davvero, Marco, che figura di merda. Ancora fare lo stalker con quella che manco ti caga più. Il film di Bernati, poi. Sono anni che dici che fa della spazzatura. Sei proprio un paraculo, come direbbe la nostra attrice preferita. Per favore, lasciamo stare la critica cinematografica. E comunque la colpa è tua. E mi cominci ad andare in quei posti di merda dove non mi rimane altro da fare se non bere come un folle e da sbronzo chiamare ex fidanzate nel cuore della notte. Allora ha ragione Giulio. Tu sei ancora completamente in baglia di quella. Te ne vai. Ok. Faccio colazione e vado. Una cosa, Marco, è ancora vuoto l'appartamento qui di fronte. Sì. I miei non vogliono né vendere né affittare. Credo che mia madre non si sia ancora ripresa. Sono due anni che tu non hai morto, però. Cos'è, fai il commerciale anche con gli amici adesso? Ma poi puoi parlarmi di lavoro sabato mattina. È ancora tutto indefinito. Però mi sa che possiamo fare una gran bella mossa insieme. Parlo di bei soldi. Ivan, ci senti? I miei non vogliono affittare quella casa. La trattano come se fosse il museo dei ricordi. Mia madre è arrivata a livelli folli che manco sposta i mobili di mezzo centimetro. E poi, se anche fosse che riesce a concludere una trattativa, Spilorcio con me e mio padre non mi passerebbe nulla. E chi ha detto che loro debbano sapere qualcosa? Vivono ad un'ora da qui. No, ho detto che sei ancora ubriaco. Sono tutti intestati a loro. Ti pare che facciamo un contratto d'affitto senza i padroni di casa? E quando tornano d'estato è per Natale come li nascondiamo i nuovi affittuari qua di fronte? Dai, Ivan, lo sai. Abbiamo già fatto questo discorso. A me i soldi farebbero comodissimo. Da quando sono tornato dall'America non vedo un centesimo dei miei. Sono costretto a filmare le pizze per pagare le bollette. Ho un cliente particolare, Marco. Sta cercando un appartamento tranquillo. Ci vuole stare una notte a settimana. E venerdì paga una follia. Mi ha chiesto di non dire niente neanche in agenzia. E solo per cercarlo. E mantenere in riserva mi ha dato 500 euro cash. Quanto? Ho pensato qui. Tu mi copri le spalle e ti fai i cazzi tuoi. A casa il quartiere è tranquillo. Sopra ci sono solo tre vecchi che quando questo arriva sono in fase rena. E il ricomagliare quanto paga per scoparsi l'amichetta? Tanto, Marco. Ha detto che vuole fare una prova. Testare l'appartamento. Così ha detto. Un mese, quattro notti, 2000 euro. Ed è solo per cominciare. Poi è disposto a dare anche di più. Questo mese sembrava una merda. Persino più noioso del solito. E poi è ripeto queste notizie. Ma scusa, ma perché non mi ha anticipato niente ieri? Perché non ne ha detto ancora nulla. Questo un po' non risponde al telefono, un po' si fa desiderare. E poi non parlo mai di lavoro il venerdì sera. Voi siete fuori di testa. Non sono sorpreso più di tanto da Ivan che è solito fare cazzate. Ma tu? Punto primo non dovevi dire un cazzo qua a Novello Perimeso. Ma hai mai sentito parlare di privacy? Poi le figure di merda le faccio io. Dai, sono 15 anni che ci conosciamo. Non mi sembra che Giulia abbia mai chiacchierato in giro. Infatti, qui sto solo mettendo in guardia. Ma spiegatemi perché un tizio dovrebbe darvi 500 euro a notte per dormire in un trilocale anonimo, peraltro arredato malissimo, e non andare in una suite di Nutella 5 Stelle. Oh, ma trilocale anonimo cosa? Ma poi scusa, l'aveva arredato mia nonna quasi 40 anni fa. Non c'erano mica l'Ikea e lo stile minimal allora. Ma il punto è un altro. Ragazzi, o siete tonti o fate finta di non vedere. In hotel ci si deve registrare documenti e compagnia bella. In hotel capita che ci siano delle telecamere a circuito chiuso, nelle hall, nei parcheggi, negli ascensori. Beh, se io fossi con la mia amante, non vorrei farmi vedere in un hotel e lasciare il mio documento a un portiere qualsiasi. La gente parla. Ah, né tantomeno farmi inquadrare da una telecamera. In meno di un'ora da qui sia a Torino, sia a Milano, sia a Genova. È pieno di hotel bellissimi che costano meno di 500 euro a notte. È dove il tuo misterioso cliente non è un cazzo di nessuno e può tranquillamente registrarsi. Per di più c'è la legge sulla privacy. L'albergo può fornire i dati dei propri clienti solo se vi sono delle indagini in corso e se vengono richieste dalle forze dell'ordine. Non certo per una moglie insospettita e gelosa. Vabbè, quindi? E quindi il tizio non vuole l'appartamento di tuo nonno per scoparsi l'amante? Sveglia! No, certo. Lo usa per affettare i giovani vergine al chiaro ultiluna. Ma non dico sia un killer, stupido. Dai, Giulio, Ted Bundy a parte. A cosa stai pensando? Ipotesi 1. Droga. Magari usano la casa di tuo nonno per spacciare. Magari per tagliare una grossa partita. O magari per cucinarla. Questo ci è rimasto sotto con Breaking Bad. Ma ripiglati, Giulio. Fatti un po' di rosso, va? Ipotesi 2. Prostituzione. Escort. Eccetera. Ivan ha detto che il tizio viaggia in Maserati. Veste bene e non parla mai del suo lavoro. Il ritratto perfetto del pappone dello spacciatore. Non ho detto questo. Ho detto che rimane sempre un po' sul vago. Dice che è nell'edilizia. Sì, che in effetti può voler dire tutto e niente. Ok, mi è salita l'ansia. Se vuoi domani, in base alle due ipotesi, anche se ne avrei altre tre o quattro in mente, ti posso dire quali sono i reati che puoi commettere. Da favoreggiamento della prostituzione in su. E vi posso stimare anche quanto rischiate di galera. Salute amici. Cosa facciamo dopo cena? Nella prossima puntata di Su Marte non c'è il mare, Ma non avevamo deciso di lasciar perdere. Non posso più permettermi di pensare all'etica. Etica a parte. Giulio ci aveva parlato di galera. Sei un coglione. C'era una possibilità sul milione. Un povero coglione presuntoso. E' un povero coglione presuntoso. E' un povero coglione presuntoso. E' un povero coglione presuntoso. Accade ogni tanto che il venerdì diventi qualcosa di più di un'illusione. Si trasforma quasi in una promessa. Questo succede quando c'è un grande evento alle porte E le attese sono più alte del solito. Se ne parla prima, per giorni. Che sia un compleanno, una festa di laurea O che qualche ricco annoiato apra semplicemente le porte della sua bella casa Facendosela distruggere da decine di conoscenti sconosciuti. In qualunque di questi casi, il venerdì diventa una promessa. Quasi sempre non mantenuta. Mister Eusepi, Mister Eusepi. E' il suo agente immobiliare che le parla. Scusami un attimo. Ivan, bravo sei venuto. Ti presento il futuro avvocato Giulio Timberti. Ah sì, i miei genitori conoscono tuo padre E il futuro Spielberg Papparabam, Marco Lana Ciao, complimenti per la casa Grazie, ragazzi divertitevi e mi raccomando prendetevi da bere Contaci grandi, a dopo Se compri un Boxster non compri una Porsche E' anni che lo dico, il Boxster è soltanto voglio di Porsche Lei l'ha pure lasciata Cioè, amore, fammi capire Sbombiniamo il suo amico E' stata beccata, perdonata e l'ha pure mollato Evidentemente si è fatta i suoi conti, la ragazza Il tipo con cui andava, di nascosto, è pieno di soldi Ragazzi, sono quasi tre ore che siamo qui a un principe scatole C'è della gente imbarazzante Giuro che se sento ancora parlare di Golf Club e Mocassini Vomito Giù Tu vai pure a casa Questo qua è un cliente, ma non è che posso andare via così A parte che il tuo cliente non ti ha cagato mezzo secondo E poi a sto giro sono d'accordo con Giulio Dai Le ragazze sono tutte le mignottoni che pensano di essere dentro Gossip Girl Per essere il mondo, le due siamo a casa Ci vediamo domani Ciao ragazzi Sei un coglione C'era una possibilità su un milione Un povero coglione presuntoso Dottor Brancusi? Salve, sono Lana, il ragazzo dei video Scusi se la disturbo il sabato Volevo chiederle se la settimana prossima riesce a saldarmi il lavoro del mese scorso Sì no, di solito il pagamento a 60 giorni va benissimo Solo che questo mese ho avuto un po' di spese Certo Grazie, grazie a te stesso Arrivederci Ciao ma Come state? No, no, non sono ancora andata a vederlo Com'è, bello? Senti, stavo pensando di cambiare telecamera Perché a livello qualitativo ormai non regge il confronto con certi lavori Boh, sui 5.000 euro Il prossimo anno compiamo 28 anni, lo sai Siamo drammaticamente vicino ai 30 Mi pare di cozzo no, eh, però Ah no, cosa vuoi? Stacco una segna, vado? Non ti chiederei mai una cosa del genere Non per quella cifra, comunque Io non me ne sono quasi reso conto, Giù Ero un marcio, ho visto tutti quei caffoni arricchiti gonfiare il petto per ore E mi è venuta la sindrome d'ornipotenza Dicevo, adesso vi faccio vedere quanti siete coglioni Sì, ma poteva anche essere una partita giocata contro una massa di deficienti disposte a buttare via un po' di soldi Ma, punto primo, se sei brillo, non giochi Punto secondo, tu non sei certamente un principiante ma non sei neanche sto Ungar E punto terzo, più importante, non rischi di perdere 20.000 euro in 20 minuti se non li hai sul conto in banca Lo so, lo so, non c'è bisogno di ripetere Cosa vuoi fare? Se va bene mia madre mi dà 1.000 euro In giro mia ventina di giorni dovrei recuperarne altri 1.000 da lavori non pagati Mi mancano 18 Mi sa che mi metto a fare quei matrimoni E il pezzo di merda della festa Mi ha anche dato un paio di mesi per saldare Faceva lo splendido, quello che non ha fretta Sì, per ora non ha fretta Io ti posso aiutare al massimo con 2-3.000 euro, non di più No, 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 dagli amici non voglio nulla Ah no? Cosa pensi di fare su 18.000 euro in 2 mesi filmando copie che si sposano? Lui sì che non ha preoccupazioni Studia memoria dal manacco, colleziona le sue sciarpe e via Com'è che la tua ragazza non la vediamo praticamente più? Che c'entra? Lui? Ci stiamo lasciando Mi spiace, davvero Sono 2 mesi che non scoppiamo L'altra sera in pizzeria in un'ora abbiamo detto 97 parole 97? Le ho contate E qui c'è tutto lo spazio che vuole È carino, ma credo che mia nipote voglia qualcosa di più vicino al centro Signora, in 10 minuti a piedi da qui arriva direttamente in braccio al sindaco In che senso, scusi? Nel senso che ha 10 minuti a piedi dal municipio, quindi dalla piazza principale e quindi dal centro Mi scusi un secondo Cosa ci fanno questi pauranti? Fatte l'agenzia me l'ha detto che ritrovo qui Aspetta un secondo Senta Io sentirò mia nipote e poi le faccio sapere Va bene signora Non ci pensate troppo che c'è tanta gente dietro questo gioiellino D'accordo Arrivederci Un saluto A presto Ma non avevamo deciso di lasciar perdere Non posso più permettermi di pensare all'etica Etica a parte Giulio Ceva aveva parlato di galera Spesso ha dei modi di fare di merda quel ragazzo E' solo io il primo a dirlo Però questa volta Sì, ci abbiamo fatto cambiare idea Ok E se la smettessimo di farci duemila pippe mentali? Ivan, è l'unico modo che ho per chiudere questa storia Neanche il mio cliente, tra l'altro, credo riesca a darti tutti questi soldi in così poco tempo Vabbè, però possiamo chiedergli un anticipo? O... Ma che cazzo mi so? Sei tu il commerciale? Senti, fammici parlare, ti aggiorno Mi chiami stasera? Eh, se mi risponde, sì Te l'ho già detto che non è semplicissimo comunicare con questo Grazie, bello A dopo Grazie a tutti Patti chiari e amicizia lunga Il cliente paga tanto e chiede assoluto riservo Niente carte, niente documenti Quello che c'è da sapere? Poco e niente, dire il vero Lo so io e stop Tu mi dai una copia delle chiavi Facciamo un bel duplicato E lo passiamo al nostro amico Ha già detto che restituirà l'alloggio come l'ha trovato Mi dice che vuole solo stare tranquillo Il venerdì notte Da mezzanotte Alla mattina Dopo nessuno deve farsi vedere in casa di tuo nome Paga cash In anticipo Non parcheggia sotto casa Nelle scale sarà un flash La prima volta sarà di prova Ah Si può portare compagnia se vuole E mi ha garantito Niente droga Niente troia Il mio primo weekend da single I genitori di Marco hanno deciso di proteggere il loro pulcino Ti prego Non prendere tutto più imbarzante di quello che è Insomma va tutto bene no? Ragazzi giuro che stasera non voglio di andare a casa presto Io invece saluto le vostre belle facce Ingoio due ventine e scappo che stasera c'ho un appuntamento Non ci credo che hai fatto su stavolta? Ve l'avevo detto che la figlia del Rossini mi fissava Scusa ma esciva solo con lei? Come hai fatto? Cinemico Un classico Dai sono contento In bocca alle luci Mi voglio pisciare sto schifo di dirci niente no? Ciao io La figlia del Rossini Sono un po' teso stasera Esci Fatti delle birre Stai con Giulio che a pezzi per via di Maria Non ci pensare Entra e decidi casa come se niente fosse E fatti i cazzi tuoi Ed anche questo è un dritto non te ne accorgi neanche E se si trova bene Abbiamo tra le mani una miniera d'oro Come quella di zio Paperone altro che Zio Paperone sta in un deposito pieno di dollari Non in una miniera Sostantivo maschile e femminile Caga cazzo Tu Quanti Grazie a tutti Ma non ci sono i pali? No, no, si sono trasferiti qualche anno fa Si è accattato? Scusami, andiamo subito Permessa? Scusami, andiamo subito Scusami, andiamo subito Nella prossima puntata di Su Marte non c'è il mare Maestro Lana Giada Ciao Che cosa ci fai qui? Il tuo cliente è un pezzo di merda, mi sta prendendo in giro Se parti così non andiamo bene Tu parli in questo modo perché non è casa tua Ma hanno sentito un po' di musica e quindi Se fossi in casa mia a quel prezzo gli farei ascoltare tutta la cazzo di playlist che ho sul computer Tutta E ti assicuro che sono giga e giga di robaggi Vabbè va, vado a bere un caffè e a leggere due stronzate sul carciomercato Così scarico la tensione Bravo Marcolino A che ora attacchi al lavoro? No, oggi sono tranquillo Con solo un appuntamento alle 10 devo fare dei preventivi a un cliente Rilassati Caffè, gazzetto, italiano medio E invece a te come va con la tua nuova fiamma? Bah, non ho ancora capito cosa le passi per la testa Un po' sembra che me la voglia dare Un po' fa la prezzosetta Tipo? E tipo che ieri le ho chiesto se voleva venire a vedere la tv da me E mi ha detto di no Come se fossi il mostro di Dusseldorf La tv? Mamma mia, quanto sei anni 90 Hai fatto veramente una richiesta da super spiegato Ah, parli tu Mi ha detto Giulio che ieri avete conosciuto due tizi E che hai parlato tutta la sera del metacinema Che poi, che cazzo è sto metacinema? Sono anni che ogni tanto lo tiri fuori creandoti il vuoto intorno Ciao, Ivan Magari uno di questi giorni ti chiamo Così vieni da me a guardare la tv Ha bisogno Ehi Una domanda per un caffè, una domanda per un caffè Dopo, Jack Maestro Lana Giada Ciao Che cosa ci fai qui? È la città in cui sono nata, in cui vivo Ah sì, scusa, pensavo fossi in promozione per il film Sì, mi sono presa giusto un weekend per salutare i miei Poi si torna alla corte di Bernati Ah beh, sei stata fortunata a incontrare uno come lui Tu hai sempre detestato i suoi film Dai, non devi fare il diplomatico anche con me Sì, oddio, non mi fanno impazzire Ma è comunque uno dei migliori registi che abbiamo in Italia Quindi, chi se ne frega, farà bene la tua carriera Il giovane idealista da Cineforum dove è finito? Oggi perché non mi cagli? Dai, scegli un campionato Tedesco o Austriaco? Scappo, Marco Saluta gli altri Magari ti offro un caffè prima che tu riparta Magari Tedesco o Austriaco? Ciao Tedesco o Austriaco? Austriaco Chi è il miglior marcatore nella storia del Rapid Vienna? Succede poi che il venerdì Semplicemente Smetta di essere un'illusione O una promessa non mantenuta Trasformandosi in un'ossessione Una cristallina e puntuale ossessione I tuoi amici me ne ha detto che eri ammalato? No, è che ho fatto tutto il pomeriggio la sproduzione al computer e ho un compasso piantato nella testa Però bevi la birra Io soprattutto non avevo voglia di uscire Però mi fa piacere che tu sia passata Che vuoi farci? Ho un debole per i ragazzi che vaporò non è nulla Ma figurati, ma dove vuoi che vada? No, è che è stato un periodo un po' così Comunque io sarò la tomba Che ho beccato nel letto con la febbre alta E io invece ho un debole per le ragazze che sbucano fuori il venerdì notte con me Buonanotte, amore Sarai sempre bellissimo Volevo portarti un debole Ma poi avevo il terrore della lezzencina Tipo, questi sono filmacci e bla 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 Oddio, ma sono davvero così noioso? Anche oggi il bambino diceva la stessa... Sì, un po' Però in questa città c'è molto di peggio E poi sei carino Chi è Ivan? Il terzo componente del Magico Trio? Sì, ma sicuramente l'hai già visto in giro Comunque anche oggi sia Ivan che la mia ex Nel giro di pochi minuti mi hanno dato del cine fino a un'era Perché me... Facciamo così Non mi parlerei della tua ex In cambio, finiremo il vino e la birra E mi farò scopare finché avrei voglia Ok? Ok Ok, l'importante è che guardi sempre in camera E cerchi di essere il più spontaneo possibile, ok? Ci vogliamo La risponda pure, ce n'è ancora una Scusi, è un secondo Pronto? Marco e lei Sono la signorina Bo Ho provato a suonarle quattro volte Sì, buongiorno, sto lavorando, mi dica Quindi le disturbo sul cellulare Ma la mia chiamata era Per invitarla a non effettuare più lavori nelle ore notturne Non è finito quel minimo di civiltà No, mi scusi, non capisco Non faccia pinta di non capire La prossima volta che sento un trapano alle tre di notte Avviso sua madre Ho 82 anni io Cerchi di capire Non succederà più, gliel'assicuro Scusi, però adesso devo veramente scappare Scusi, eh? Scusi ancora Ok, il motore è partito Quando vuole Il tuo cliente è un pezzo di merda, mi sta prendendo in giro Shhh, abbassa la voce Oh Marco, ma che cazzo ti prende? Non puoi piombarmi così in ufficio e fare ogni settimana il paranoico Paranoico? Ho trovato dei preservativi e della cocaina Della droga Cazzo Giulio aveva ragione Finiamo in galera Ma la cosa più grave è un altro Nessuno ha mai pensato che quello ti affittasse l'appartamento per dire a Rosario Sieghi, giusto? Si fa qualche strisce e si scopa delle troie E quindi? Ah, il più è che sia discreto, paghi e mantenga tutto in ordine e fine Fammi finire Perché il brillante testa di cazzo che mi ha messo in casa è tutto meno che discreto Si è messo a fare dei buchi col trapano ieri notte E sai chi è venuto a dirmelo? La vecchia stronza del piano di sopra È un miracolo che non abbia già chiamato i miei Scusa? E chi ti ha detto che lui ha usato un trapano? Magari la vicina Delira o ha scambiato un brano d'upstep per qualcos'altro? Hanno cambiato serratura in una delle stanze, ok? L'ho visto con i miei occhi poco fa Sono chiuso fuori da quella stanza Potrebbero tranquillamente stipare pacchi pieni di droga o pezzi di cadavera al di là del muro Per quanto ne sappiamo Ma ora stai esagerando Marco, dai esci dal romanzo Comunque adesso mi metto in contatto con lui e gli chiedo spiegazione Lui, il cliente, vivano Hai rotto il cazzo con questi modi di fare misteriosi, ok? Non stiamo giocando a Cluedo C'è gente che sniffa e dentro mascherata in casa mia Arme gioco i trapani e mi cambia le salvature di casa E tu ancora non mi dici il nome di sto tizio Credimi È molto meglio così Facciamo in questo modo Io adesso chiamo un fabbro e la donna delle pulizie E faccio rimettere tutto com'era E trovo qualsiasi altro modo per saldare il debito con quel facciali merda della festa Sono anche disposto a lavorare 14 ore al giorno Anche a chiedere un prestito ai miei Piuttosto che vedere arrivare la pulizia a casa mia Senti Marco, facciamo così invece In questa busta ci sono 22.000 euro, prendili Salda il debito con l'amico di Euseppi Il resto te lo metti da parte Poi ti fai qualche giorno via con la tua nuova tipa, come si chiama, Marta no? Francesca Ecco, prendi Francesca Andate a vedere qualche borgo in Toscana o rinchiuditi in una spa per 48 ore Nel frattempo io chiamo il cliente Vi dico che non siamo per niente contenti di come stanno andando le cose Se scopa o pippa non ci interessa Se ai suoi amici piace mascherarsi tantomeno Io non ho nulla contro chi si traveste Sono pure stato al gay bribe una volta Ma non si cambia nulla in casa come da accordi Niente più vicini incazzati, né seratore cambiate, né rumori vari, ok? E tu da quando tieni in ufficio migliaia di euro in contanti? Mi ha pagato due giorni fa, tu eri ammalato Te li avrei dati domani, più tardi lunedì E non dubitare sulla mia onestà in fatto di affari che mi fa incazzare Mi va a non fare lo stronzo Doveva darci molti meno soldi Com'è che dopo due volte già ci riempi con questi? Senti, so contare anche io, cosa credi? Si è trovato bene Lui mi diceva che i suoi amici erano contenti, che la casa era perfetta Via isolata, quartiere anonimo, vicini con i fantasmi Morale, ho trattato Sono un commerciale E sei riuscito a fargli dare i soldi di un anno di affitto in poche settimane? Aspetti che io ci creda? Senza contare che ancora non ho capito quanto prendi tu Stai esagerando Marco Ci sono persone molto ricche al mondo, bello Persone che guadagnano questa cifra in poche ore E che per un po' di privacy e tranquillità sono disposta a pagare un sacco Io quella tranquillità gliela faccio avere, punto Sei l'unico padrone di casa al mondo che si lamenta per aver preso più soldi del dovuto Comunque, adesso fai come ti dico Tranquillizzati Ti assicuro che nessuno cambierà più nulla in casa del nonnino Niente più casino di notte Se succede ancora anche solo mezza volta Tutto finito Caputo, fuori dalle palle Che si cerchi in un altro appartamento Vabbè, se voglio che questa cosa finisca, quanto previso devi dare a Mister X Beh, non ne abbiamo parlato ma credo ben poco È il tempo di riorganizzarsi Se vuoi gli chiedo anche quello quando lo sento Però poi dovremmo ridargli la differenza di soldi Un bel casino non trovi? Già, proprio un bel casino Non trovi, non trovi Non trovi, non trovi La mia casa è un bel casino Il fatto è che trovo assurdo andare a mangiare del finto cibo giapponese in un ristorante gestito da un cinese che paga 5 euro all'ora sui connazionali. Beh, se per questo ci lavorano anche gli italiani, eh. Ma non credo che il punto fosse quello. No, infatti il discorso era un altro. Ragazzi, ma tutte le volte che dovete decidere dove andare a cena fate questa consultazione tipo senato. La prossima volta ci penserei due volte prima di proporre il giappo. Ehi ragazzi, buonasera. Ciao Ferro. Iva, vecchio leone. Sempre in mezzo alla figa, eh. E loro sono Francesca e Ilaria. Mui incantato. Non ti si vede spesso da queste parti? No, questi locali dentellettuali del cazzo mi danno parecchio il volto a stomaco. Ma questa sera c'è una festa di compleanno nella sala qua dietro. Io di solito bazzico in posti con un po' più di movimento. Come anche il Torello qua. Beh, ci vediamo allora, eh. Eh, sì, ci vediamo, magari dopo. Ma che fine ha fatto il nostro regista? E ultimamente è stato preso da impegni familiari e professionali. Magli fermi avere i tuoi saluti. Bella, signore. Chi è questo buzzurro? Lascio appena, guarda qua. Piuttosto, io ormai sono abituato a dare certe risposte diplomatiche quando mi chiedono di Marco. Ma voi avete idea di cosa sia succedendo? Ma starà bene, dai. Sarà un periodo che ha un po' più di lavoro del solito. E poi dai, Marco ha sempre avuto una salute di merda, lo sappiamo tutti. Fin da ragazzini. Quando andavamo a scuola ti ricordi che gli veniva sempre qualcosa? Direi che non è solo lavoro o qualche mal di gola. Io lo frequento da poco ma mi accorgo che ha qualcosa che non va. Voi lo conoscete da una vita e non fate nulla per capire. No, per volendo a me non dice nulla. Volei farti leggere i nostri messaggi o farti sentire le nostre telefonate. Sono più noiosi di quelle con mia madre. Ciao, tutto a posto? Sì, sì, tutto ok. Quattro cazzate e via. Beh ragazzi, forse sta cercando di dirvi qualcosa ma non ha le parole per farlo. No, ma le parole per dire che cosa, dai. E poi tu Francesca, non è che perché ti sei scopata qualche volta il mio amico puoi venire qui e metterti a fare la psicologa del cazzo che capisce ogni sfumatura... Il solito raffinato. Comunque ragazzi, dai, capita a tutti di avere dei momenti di calore. Isolamento dal mondo e bla bla bla. Solo che non ricordo di aver visto così poco Marco da quando siamo bambini. Ho fatto i due domandi. Persino da New York, su Skype, interagiva con me più che adesso. Ragazzi, scusate, non vorrei cambiare discorso. Ma ho fame. Anch'io. Visto che avete tutti questi problemi etici sul giappo, quali sono le alternative? Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Ti va un tè? I biscotti sono finiti e... Anzi, credo che in effetti non ci sia rimasta più nulla da mangiare in casa. No, solo te va bene. Ma da quant'è che non pulisci qua? Sì, lo so, la casa fa schifo, io pure, sono a pezzi. Sei la prima persona con cui parlo da giorni e oggi è anche venerdì. E questo cosa c'entra? Io non ho idea di chi ci sia dietro tutto questo. Non so nemmeno se sia fra queste persone riprese. Non ho parole. Ci sono alcune delle persone più potenti della provincia. Sì, ed entrano ed escono come se fossero da un cazzo di barbiero a comprare pane e invece bevono, scopano e si drogano come dei condannati a morte. Sono riuscito a rientificarne almeno dieci. Ma tutto è partito da questo figlio di puttana. Il rapollo di Giusepi? Esatto. Ho riconosciuto subito la sua faccia da cazzo. E da lì Google, immagini, giornali locali e social network sono andati avanti. Questo qui, alto e grosso, è il vice sindaco. Questo qui, invece, è nel CDA di un S.P.A. Sai la Grox, quelli che fabbricano cacciaviti? Perché devono fare tutto questo in un appartamento e non in qualche bordello? Oppure andranno in una villa, in una tenuta, che cavolo ne so? Se un senatore entra in un locale notturno fa subito scalpore, no? Invece l'uomo d'affari, che fa beneficenza sotto Natale e dopo essersi fatto un'orgetta a compagni e figli a scuola crede che voglia tutto questo nella sua biglia di campagna? Pensaci, così hanno trovato la soluzione ideale. Mantengono un profilo basso e hanno molte meno possibilità di essere scoperti. Probabilmente cambieranno anche appartamento ogni tattui mesi e Ivan fa da ponte per trovare gli allocation. Ma quello è proprio un povero cretino. Manco si rende conto di essere una marionetta. Se mai questa storia viene a galla è il primo a finire male. Ah, ma io non guardo più in faccia nessuno. Continuerò a riprenderli finché vengono qui. Poi faccio un bel backup e mando tutti in quest'urla. Marco, ma stai ragionando? Tu ad oggi sei quello che gli fornisce la casa. Oltre a rovinarti la vita per sempre, finiresti anche tu sotto inchiesta. Non mi interessa niente. L'importante è che la paghino tutti loro. Ma stai dicendo delle follie, ma poi come puoi far passare altro tempo? Hai visto quella ragazza fuggire piangendo? Probabilmente qualche porco l'ha fatto delle violenze e tu? Invece che chiamare quel cretino di Ivan e far cacciare questo club di persone disgustose da casa tua immediatamente, aspetti che ci scappi il morto per poi fare giù le l'affacce dei poveri? Quindi secondo il tuo ragionamento che cosa dovrei fare? Scegliere l'omertà? In questo caso sì. Hai fatto tutta una serie di cazzate enormi. Metterti in casa gente che non conosci, spiarli con il tuo eggeggio, abbruttirti e rintanarti qui. E ora i prossimi passaggi quali sono? Infangare mezza città, rovinarti l'esistenza e finire in galera. Sì, direi che nella situazione in cui ti trovi non ci sono molte vie oltre a quella dell'omertà. Siamo a più nove con tutto il girone di ritorno. Secondo me è fattibilissimo. Sì, è il sognatore Ivan. Ormai non ci prendete più. Dopo che vi siete giocati male il derby, la carica di inizio campionato l'avete persa. E poi nove punti non sono pochi. Sì, ma devo parlarti. Uè la bellezza, ti credevo morto e sepolto. E poi cosa fai, non saluti neanche, ti ricordi Gigi? Ciao Gigi, devo parlarti. Va bene, dai ti faccio accomodare nel mio ufficio, oggi sei premestruato. A dopo. Ciao Ivan. Ascoltami Ivan, io restituisco tutti i soldi e tu mi garantisci che questa è l'ultima volta che quei figli di puttana che mi ha messi in casa staranno dall'altra parte del muro a fare le loro porcherie. Oh, ma quali porcherie? Ma che figli di puttana? Ma ci calmiamo. Stai parlando a Vambera. Marco, tu non ce la fai più. Guarda, te lo confesso, io e Giulio pensiamo che ti stai esaurendo. Oh, non solo non sto parlando a Vambera, ma ho anche installato un sistema circuito chiuso per videoregistrare il tuo fantomatico cliente. Ho visto cosa è successo venerdì scorso e mi basta. Finisce tutto qui. Non mi interessa come lo contatterai, come ti giustificherai, non mi interessa. Sono disposto anche ad umiliarmi, anche a chiedere soldi ai miei, e a farmi spaccare la faccia dall'amico di Eusebio. L'unica cosa importante è che tutto questo finisca. Domani. Bravo, Marco. Hai fatto una gran bella cazzata. E chi è che avrebbe visto questi video? E soprattutto, dove li tieni? Chi ha visto i video non ti interessa? Li ho in un'unica copia sul mio computer. E se tutto questo finisce come ti chiedo, domani andiamo insieme a casa mia e cancelliamo tutto. Possiamo anche formattare tutto il fottuto sistema, tutto l'hard disk e tutte le chiavette USB che mi trovi in casa. Non ha importanza. Per la troia saccente di Francesca, che ti ha caricato con una sveglia. Sei proprio un poveraccio. Il poveraccio sei tu, Ivan. Sei una persona piccola che farà una fine pessima. Perderai il lavoro e probabilmente finirei anche sotto processo. Io oggi non ti denuncio. E finisci tutto qui. E farò finta che sia stato solo un brutto incolo. Ma prima o poi, prima o poi Ivan i tuoi ricerranno qualche cazzata. E tutto questo circo dell'orrore ti esploderà addosso. Come desidera, signor Lana. Il tempo di fare un paio di chiamate e dalla prossima settimana può cambiare le salature, imbiancare quel cesso di casa che si ritrova e sparire dalla mia vita per un bel pezzo. Pensavo fossimo amici. Invece sei solo un pezzo di merda. Facciamo qualcosa al prossimo weekend? Mare? Pesce? Vino bianco. Mi piace. Ma da lunedì ti rimette a rispondere al telefono, alle mail... Francesca, me l'hai già detto, sì. Ripetite Juvent, specie con gli zucconi. Hai tolto le tue telecaveline da 007 di là? Sì, sembri mia madre. Ok, dopo questo prendo le mie cose e vado. Ce li diamo più tardi? Ok, salutami Giulia e Ilaria. Potresti uscire e farlo direttamente tu. Ho fatto già tanti passi in avanti nelle ultime 24 ore. Facciamo che il mio rientro in società, lo spostiamo la settimana prossima. Ok, a dopo. E scegli un filberna, niente polpettoni. Come sempre, ciao. Aprende! Giada, mi senti? C'è nessuno? Giada? 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 La polizia, Marchi, ma non ricordi nulla. Questa notte sono entrati nella casa del nonno. Buongiorno, si è svegliato? Non lo intontisca di parole, eh signora, mi raccomando. Ma la serratura è della stanza, Giada? Amore, cosa dici? La serratura l'hanno rotta. E cosa c'entra, Giada? E' normale che sia confuso con la botta che ha preso. Hai sentito la signorina? Io ora vado da tuo padre che è stato tutta la mattina in questura. Dopo passa a salutarti anche lui. A casa del nonno? È tutto in ordine, Carlo. Non hanno portato via nulla. Li ha messi in fuga, anche se dopo l'ispettore ti farà una bella predica. Hai fatto bene a chiamare la polizia, ma non avresti dovuto avventurarti di là da solo. Ma io non ho chiamato nessuno. Cosa le ho detto, signora? Lasci riposare suo figlio? Va bene, io ora vado a chiamare il fabbro. Torno stasera, va bene? Ah, ti ho preso il cellulare. Nel caso mi voglisi chiamare per qualcosa. Ci vediamo più tardi. Giulio, ciao, sono io. Senti, sono in ospedale e ho bisogno di rivederti. Ho provato a chiamarti tre volte, ma avevi il telefono spento. Che succede? Stanotte Ivan e Francesco hanno avuto un incidente in auto. Sono usciti di strada alla fine della tangenziale. Come stanno? Perché erano insieme? Non lo so. Quei tu disgraziati sono finiti fuori strada. La macchina ha fatto un volo omicidiale. Come stanno, Giulio? Sono morti entrambi sul colpo. Mi dispiace. Damien. Come stanno. Bicsora. Marco, ma che diavolo fai qui? Tranquilla, ma che cosa vuole uscire? Ma sei impazzito? Ma un po' di buonsenso? Ecco, bravo, vai di là, vatti a colicare. Dove cazzo sei? Che cazzo ci facevi in casa mia ieri sera? Marco, stai bene. Io sono a Roma da una settimana. Se vai avanti a farmi queste telefonate mi costringerai a chiamare... Una domanda per un caffè? Oh, Jack, te lo offro io il caffè, eh. Basta che non rubi le palle. Sono morti due ragazzi stanotte e tu ancora a fare lo scemo. Conoscevo Ivan. Ecco appunto, allora basta queste classifiche dei cannonieri e questi calciatori stronzi che conosci solo tu. Prenditi un caffè e stai buonino, dai. Che roba, morire così? Già. Per fortuna che me ne vado un po' da questa valle di lacri. Dove te ne vai? Giù in Puglia, dai miei cugini. Inizia la stagione e mi hanno preso come cameriere. Vabbè, visto i tempi va bene tutto, no? Ma sì. Ma la cosa bella è che riesco anche a affittare casa mia per quando non sarò qua. Un tipo si è fatto fregare. Mi dà almeno il doppio di quanto vale e lavore soltanto una sera a settimana, il venerdì. Ma scusa, per quattro notti al mese non puoi andare in hotel. Ma cosa vuoi che ti dica? La gente è strana. Eh, vado a fumarmi la sigla, va. Quattro notti è della musica che li rende abitati Le discoteche, le stanze d'ospedale Della canzone capace a sollevare il male Cantami o musa le voci dei bambini I ritornelli nei cortili degli asili Il viaggio di un amico senza ritorno La melodia che cura il nostro pianto sordo Musica musa, non smettere ti prego Senza ragione il tuo motivo ci salverà Nel corridoio dei licei Dentro alle cuffie di un DJ Prima dell'ultimo metro Sotto a una doccia squarciagola Cantami o musa nei luoghi abbandonati Ed è la musica che li rende abitati Le discoteche, le sale prove giù in cantina Nella canzone che ci svegli ogni mattina Musica musa, non smettere ti prego Musica musica Senza ragione il tuo motivo ci salverà Musica musica Nel camerino di una star Dentro alla coda del discount Nel buio attorno all'una park Sotto a una doccia squarciagola Musica 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 musa, canzone a primavera Che sta a metà tra un esorcismo e una preghiera Senza ragione il tuo motivo ci salverà Per ricordarci che la musica è là fuori Che noi cantiamo per non essere soli Per ricordarci che la musica è là fuori Che noi cantiamo per non essere soli Per ricordarci che la musica è là fuori Per ricordarci che la musica è là fuori Che noi cantiamo per non essere soli 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 Che noi cantiamo per non essere soli